Ben trovati sul lungometraggio, la rubrica ideata da Claudio Capuano in onda su Reteoro nel canale 210 del Digitale Terrestre. Oggi qui con noi abbiamo l'ideatore di tanti programmi, Claudio Furtodo Capuano e Tonino Zangardi. Buonasera, collaboravo sempre con me in tutti questi anni. Cerchiamo di conoscere meglio Claudio Fortunato Capuano. Allora Tonino dimmi. Beh io ormai lo conosco da qualche anno, non svegliamo quant'anni perché sennò svegliamo forse anche le nostre età, non mi pare il caso. Claudio Capuano è un personaggio particolarissimo perché molti non sanno tante cose di Claudio Capuano. Calma è O. No, lui ha sempre fatto televisione da molti anni, credo che siano 36-37, grossomodo questi anni, in varie tv, ha iniziato a Teletepere, poi a Televita e adesso qui a Reteoro. Però molti non sanno che Capuano è anche un pittore, è anche un pittore abbastanza importante, nel momento che il suo nome compare nell'albo dei pittori, se si chiama così, perché è una cosa che io non conosco. E allora a Claudio io non ho bisogno di fare domande, però c'è sempre una che gliene faccio sempre in tutte le occasioni ed è questa. Tu hai conosciuto tante persone del mondo dello spettacolo, della televisione, del cinema, dello sport. E la cosa che a me ha colpito molto di più, vedendo le nostre cassette una sera, è stata quella che tu andavi allo Stadio Olimpico a fare le interviste ai calciatori. Però tutto domandavi ai calciatori meno che le domande relative alla partita. Perché? Allora, caro Tonino, io non sono buono a prepararmi, io devo andare così in diretta, no? E quando l'avvocato Menghini, che era il direttore e proprietario della rete televisiva dove io sono stato per 21 anni, Teletevere, un giorno mi chiamò e mi disse, caro Capuano, lei si è interessato sempre di medicina, adesso lei va allo stadio a fare il cronista sportivo. dico, senta l'avvocato, io ho fatto lo sport, io correvo sui pattini da ragazzo, ma io una partita di calcio la seguo, sì, però andare lì a fare una telecronaca, no. No, un giornalista deve essere buono a fare tutto. Allora che cosa ho fatto? Semplice. Mi sono segnato su un foglio di carta, i nomi, ovviamente c'erano tanti stranieri, no? E me li insegnavo all'italiana, no? Boniek. Boni, hai capito? E tutti, e facevo questa. Però, attenzione, bisogna dire una cosa. Prima di me c'erano a Teletevere Massimo Caputi, Izzi e Barnabai, tre meravigliosi ragazzi. E loro si sono inventati alcune cose. Poi loro se ne sono andati e ovviamente io ho collaborato, abbiamo collaborato insieme, però non nella stessa maniera perché erano formidabili e ancora oggi fanno delle cose grandissime. Allora io mi sono inventato quello che tu ricorderai, quelli del calcio. Che cosa si faceva? Quindi è stata una tua invenzione, Claudio, quelli del calcio. Ma io penso di sì, perché quelli del calcio ce la siamo inventata noi, perché io ho delle cassette, ma questo io parlo nel 1982 mi sembra, no? 81-82. 81-82. Allora il giornalista scendeva all'Olimpico con a fianco l'operatore e altri due collaboratori. Appena si segnava il gol si portava subito su a Teletevere e si mandava in diretta. Questo è quello che faceva i nostri tre amici. Però io ho portato un proseguimento a questo, cioè che cosa? Io stavo allo stadio con un piccolo televisorino, piccolo così, a batteria, dove vedevo tutte le immagini di Teletevere, però loro ovviamente non vedevano me, però io seguivo loro e avevo a Teletevere lo spettacolo, chi cantava, chi ballava, te lo ricordi, no? Come no? E quindi avevamo una diretta, io dicevo col telefonino, passatevi la linea e ci avevamo un disegnatore bravissimo che aveva tutta una specie, come si chiamava quel che cosa in calcio. No, ci avevamo in studio, un nostro amico che aveva installato su un tavolo il subudio. Esatto, ecco, sì, sì. Allora mentre lui commentava l'azione del gol, lui con i giocatorini del subudio faceva vedere l'azione del gol. Famosa è stata quella del gol della Roma contro la Juventus ordinanti anni fa, ti ricordi? E questo è nata. Però senti, però adesso abbiamo ricordato una cosa, io invece, un'altra cosa molto importante, che tu non ne parli quasi mai, tu sei stato l'unico che ha organizzato la mostra permanente dello sporto. Ah sì, sì, sì. E le immagini che stiamo... Con Umberto Romito. Ecco, le immagini che vediamo di questa fotografia, vediamo che c'è Rivera, che c'è Salupi, che c'è, ci sono tanti personaggi, Paola Pigni... Il cosiddetto premio Giove, che era nato a Giove e Terni, vicino insomma nel Ternano, no? Si dice così, no? Ternano. E tutta questa grande manifestazione veniva fatta in un grosso edificio, quelli degli Acquaroni, erano dei conti, dei baroni, no? Era una regge, e lì c'erano tutti i cimeli di vari personaggi. E poi abbiamo dato il premio Giove, e questo premio Giove l'abbiamo dato a tanti personaggi, a Rivera, ma poi ci sono... In cosa consisteva questo premio? Cioè veniva dato un premio? Beh, si dava questo premio a coloro i quali avevano riportato durante l'anno... C'era anche Rivera, c'era anche... Ma una cosa che mi è rimasta impressa, il grande Carnera, che già stava male, un pezzo d'omone che quando mi ha stretto la mano, la mia mano non si sentiva più. Quella è stata una cosa molto commovente. Ti ha toccato. E io in quel caso ho fatto omaggio a Carnera, ho fece una litografia che l'ho data a tutti quanti. Secondo te le raccomandazioni esistono, sì o no? Dipende in quale campo? Secondo te, Sabrina, esistono le raccomandazioni? Certo che esistono le raccomandazioni. Dipende, dipende, dipende. Allora guarda, io nel 1975 ho presentato al Coni un bozzetto per le Olimpiadi. fu bocciato. Infatti adesso lo mandiamo in onda. L'hanno modificato, ma erano questi qua. Penso un po'. Quindi mi sono sempre divertito. Ma la gioia più grande, caro Torino, che non ho mai preso soldi da nessuno. Non mi sono mai fatto ricco. Vivo del mio lavoro che ho sempre fatto. E sono contento. Ci ho tanti amici. Senti, volevo farti una domanda. Tu, ripeto, come ho detto prima, hai conosciuto tanti personaggi e molti di questi, tu già li hai nominati, hanno iniziato con te, no? Sì. Commentatori. Tra l'altro non hai nominato, per esempio, Fabrizio Frullani. Io ce l'ho segnato, se vuoi. Eh, sì, sì. Ma guarda, io posso dire Piero Fusaglia, Andrea Menaglia, Gianluigi Greco, Sandro Bari, Tonino Zangardi. Tonino Zangardi. Ero un bambino quando abbiamo iniziato. Iniziato, sì. Io portavo i calzoni alla zoa, tu quelli corti, è vero? Ecco. Esatto. Tiziana Lauri, Gaetano Camillo, Orietta Di Giorio, che adesso è andata in America, Giovanna Chicco, Maura Carrer, Sabrina La Stella, te ne ricordi questa pazza di ragazza meravigliosa, Paola Tartaglia, tu la conosci bene Paolo, no? Adesso c'è anche questa Sabrina Cavalletti, io non so chi sia, però me la presenti per favore? Sì, dopo te la presento, ma un'altra cosa che ti volevo chiedere era questa, e quindi tra tutti questi personaggi che tu hai detto adesso, ce n'è uno che ricordi in modo particolare? E perché? Se c'è. Sì, allora, proprio quest'oggi ho avuto modo di vedere un'intervista che ho fatto ad Aldo Riso, perché ho fatto tante cose. Al pittore Aldo Riso? Al pittore? Al pittore Aldo Riso, sì, al pittore Aldo Riso. Credo che sia stato uno dei più grandi acquiorellisti. Sì, ha portato, forse ha rinnovato l'acquerello, no? L'acquerello. Il modo di dipingere, sì. E poi dipingeva... Quando ho visto questo filmato che ho fatto tanti anni fa, mi sono messo a piangere. Poi Tonino Cardenuto, che è un altro tuo amico, tanti amici che abbiamo forse adesso non ci sono più. Franze Borghese. Quindi tanti ti hanno colpito. Ma ne ho conosciuti tanti, tanti, tanti. Quindi posso dire, se questa è la mia ultima intervista, di essere contento. Se non altro ho ricordato gli amici, no? E delle rubriche? Una rubrica che ti ha particolarmente colpito? Ma guarda, non c'ho una rubrica che... Sono state tutte cose nate... Ecco, c'è l'ultima che si chiama Pinocchio. Pinocchio. Che la sta portando avanti... Danilo Maria Valli. Danilo Maria Valli. Danilo Maria Valli, l'attore, professionista, sì. Gaetano Camillo, perché ce lo siamo dimenticati? Gaetano, Gaetano è il nostro portafortuna, se possiamo dire, no? Ma vedi, caro Tonino, tu mi stai facendo una domanda a te. Ci abbiamo avuto anche Sandro Bari, per tanti anni con noi. E tanti altri, insomma, adesso l'elenco sarebbe molto... Vediamo un po' che se mi ricordo... Ah, ecco, Claudio Berrettoni. Anche Claudio Berrettoni ha collaborato con me a fare tante belle cose. Poi c'è... Ecco, un altro, vedi, 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 vedi. Sicuramente scriverò pure io un libro. L'hanno scritto tutti, mi rimane a me, no? Parlo anche di te, eh? Anche di te, parlo di tutti. Ma di un personaggio che vorrei dire... Vediamo se lo trovo qui, eh, velocemente. Rino Salviati. Ecco, Rino Salviati ha cantato per tanti anni, ogni tanto ci sentiamo. Ma Giuliana... Giuliana... La Turina, ecco, se è un'altra pazza attrice, la ricorderete, no? La Turina, sì, sì. Mi diceva, vedi, Claudio, io mi sogno sempre una donna tutta nuda, coperta da una belliccia di visore. Invece un altro... Però l'ultimo, volevo dire una cosa. Io, nonostante la tua grande esperienza televisiva, io mi ricordo una volta quando facevamo le trasmissioni dal club dell'Antiquariato. Sì. Una sera venne a trovarci, e quella sera veramente per la prima volta l'ho visto in difficoltà, venne a trovarci Anna Polo Kramer e Giorgio Berstazio. Ah, grandi persone, grandi. E tu quella sera sei andato in confusione. Ma non lo so... Perché per... Sai cosa c'è? Che non me l'aspettavo, ecco. Ma ti ricordi anche la famosa Mary? Come no. Ti ricordi... Mary per sempre. Mary per sempre. Ecco, non lo possiamo raccontare, andate che è una cosa che dice. Raccontate questa nera. Questa Mary per sempre era un travestito, ma una, se possiamo dire, una donna meravigliosa. E c'era con noi vicino Gianluigi Gregoro. Allora io mi avvicinai a Mary e le dissi, guarda, vedi quello lì è un nostro amico, fagliela corte. Allora lei andò vicino a lui e fece un po' di moine. Se adesso guarda, Gianluigi... E dice, ma che è questa matta che vuole? Ma io voglio ricordare anche un altro personaggio che forse è stato meno famoso, però con noi veramente è stato un grande amico. Perché tu devi sapere, cara Sabrina, che noi quando facevamo le trasmissioni dal calibro dell'antiquariato, alla fine della trasmissione poi era usanza, c'eravamo un cuoco, Nigro, Erminio Nigro, io mando un saluto carissimo. C'era una cucina bellissima, antica. Mando un grande saluto al mio amico Erminio e lui alla fine poi ci faceva un piatto di pasta alla fine per tutti gli ospiti. E quello è stato anche, secondo me, con Manuela Mattei un grande momento della nostra rubrica. La Mattei come no? Io me la sono dimenticata, grazie. Ma ci fu un particolare, c'era tutta una scala che si doveva scendere, che il club dell'antiquariato era grandissimo. Mentre scendeva con questo piattone di pasta, ha preso uno schienino e infolato. Ma lui con un'altra grande disavoltura ha preso questa pasta, l'ha rimessa tutta quanta, non si è accorto nessuno. Poi ce l'ha detto, l'abbiamo mangiata lo stesso, però sono ricordi questi. È un piacere, è un piacere. Tuttonino forse non te lo potrei ricordare, un personaggio della... Scusa, perdono. Sì, sì, adesso termini così poi dopo finiamo che manca pochissimo la chiusura. Dobbiamo chiedere. Volevo ricordare Silvio Gigli. Silvio Gigli, molti non lo ricorderanno. Beh, anche Giorgio Onorato, se per questo. Sì, anche, certo, cantante. Ma Silvio Gigli usava a dire che l'uomo si distingue dalla gravatta e dalle scarpe. Vedi, ci sono delle cose che sono belle. Valerio degli Abbati, ma tanti, tanti, tanti anni. Chi è che conclude? Sabrina. Ah, concludo io, sì, allora è stato veramente un piacere poter parlare con voi. No, per me è stato un divertimento perché abbiamo ricordato insieme a Torino delle nostre tappe. Tappe fondamentali della tua carriera. Che queste trasmissioni ormai ci hanno 37-38 anni. Il medico di famiglia credo che tra pochi giorni avrà 35 anni. Il lungometraggio credo che abbia tra poco 38 anni. 38 anni, quindi sono rubri attuali. Torino, sei vecchio, no? Grazie. E quindi niente. Ma è già una fortuna di esserci arrivati. Quella è una bella... Che non è poco, visto i tempi che corrono. Io intanto volevo salutare un personaggio che ho rincontrato dopo tanti anni. Renato Greco. Renato Greco ci ospita qui in questo teatro. Sì, ringraziamo. È un grandissimo amico. È un artista. Ogni tanto cambia idea, ritorniamo sull'idea, ma quando uno è artista si può permettere questo e altro. Renato, tra poco tanto ti vediamo. Grazie. Grazie, grazie. Arrivederci, buonasera. Grazie alla prossima puntata. Grazie.